Eccoci qua cari amici ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davittis, amici di Meteo Giuliacci sarà una domenica bella, piuttosto calda, quasi dappertutto, poche nuvole lungo la dorsale appenninica, nuvole un po' più corpose entro il pomeriggio su zone settentrionali dove sull'arco alpino, soprattutto centro orientale, dove appunto si rivedranno dei rovesci di pioggia e temporali che localmente su zone di pianura del Triveneto potranno sconfinare sulla parte più settentrionale, la parte più vicina alle Prealpi in prima serata, altrove sereno poco nuvoloso, sulla Sicilia nuvolosità in transito, qualche scroscio di pioggia locale ci potrà essere nel pomeriggio e la prima serata, sul resto del territorio però bello, soleggiato e come detto, come già annunciato, piuttosto caldo. Per il momento io mi fermo qui, ci riaggiorniamo presto, arrivederci.